dai si facciamo un altro po d'erba si dai dai facciamo l'erba ciao a tutti e benvenuti nel mio laboratorio io mi chiamo miriam e oggi vi insegnerò a fare l'orlo a mano anche detto orno invisibile l'orlo a mano è solitamente usato per accorciare pantaloni eleganti abiti o gonnelline mentre invece se dovete accorciare un jeans oppure una tenda vi consiglio anche per una questione di praticità di usare la macchina da cucire se non avete una macchina da cucire l'orlo a mano andrà benissimo anche per accorciare le vostre tende ma semplicemente sarà un lavoro molto più lungo da fare proprio per la lunghezza dell'orlo stesso mentre invece per quanto riguarda i jeans è sempre meglio usare la macchina da cucire per riuscire a replicare il più possibile l'orlo già esistente per accorciare il vostro capo di abbigliamento avrete bisogno di spilli un gessetto per segnare il tessuto se non avete un gesso per segnare il tessuto non preoccupatevi potrete fare questa operazione utilizzando gli spilli o un filo da invastire un ago vi consiglio di utilizzare l'ago più piccolo che trovate questo perché cercheremo di prendere un filo alla volta quindi più piccolo sarà l'ago più quest'operazione risulterà semplice di un centimetro da sarta per prendere la misura del vostro orlo oppure nel caso in cui non ce l'abbiate andrà benissimo utilizzare un righello o una squadra nel mio caso utilizzerò una squadra da modellista di un paio di forbici per tagliare il tessuto le mie sono forbici da sarta ma se non le avete cercate di utilizzare le forbici più affilate che avete in casa vi sconsiglio di utilizzare le forbici con le quali tagliate la carta questo perché se andrete con quelle forbici a tagliare il tessuto rischiate che non taglieranno più la carta e di un filo vi consiglio di utilizzare il filo del colore più simile possibile al vostro capo di abbigliamento nel caso in cui andrete ad accorciare un tessuto con una fantasia guardate le cuciture già esistenti e cercate un filo del colore più simile possibile a quello iniziamo la prima operazione da fare è la misurazione dell'orro nel caso in cui dobbiate accorciare un pantalone lungo o un abito che arrivino fino a terra vi consiglio di indossare al momento della misurazione le scarpe che solitamente indossate con quel capo per ottenere il risultato che più sarà soddisfacente per voi dunque indossate il vostro capo e scegliete la lunghezza che desiderate prendete un segno infilando uno spillo ad una delle due estremità del vostro capo quindi all'altezza di una delle cuciture che trovate sui fianchi una volta ottenuta la misura potete togliere il vostro capo e metterlo sul tavolo in maniera che risulti piatto ora misurate la distanza tra lo spillo e la fine del vostro capo nel mio caso sono 6 centimetri riporterò ora questa misura nella cucitura opposta quindi misurerò nel mio caso 6 centimetri dalla fine una volta riportata questa misura tracceremo una riga che passerà per i due punti che abbiamo segnato con gli spilli giriamo il nostro capo dall'altra parte e facciamo la stessa cosa come vi dicevo se non avete un gesso segnatela semplicemente mettendo degli spilli in orizzontale solitamente l'orlo è lungo 4 centimetri quindi nel mio caso dovrò tagliare 2 centimetri che risultano in eccesso questo perché se lasciamo l'orlo troppo lungo rischiamo soprattutto nel pantalone classico che faccia un gran difetto nel caso in cui il vostro orlo risulti di 4 centimetri o meno non dovete tagliare e quindi potete passare direttamente all'operazione successiva ora traccerò una linea parallela a quella del mio orlo che disti 4 centimetri dallo stesso la traccerò in entrambi i lati andremo ora a tagliare i due centimetri in eccesso toglieremo il tessuto che si trova tra lo spazio dell'ultima riga e l'orlo per fare questa operazione vi consiglio di non prendere entrambi i lembi del tessuto insieme ma di fare una tacca e tagliare uno strato di tessuto alla volta intacchiamo il tessuto e iniziamo a tagliare infiliamo una mano nel nostro capo per fare sì che appunto sia più facile tagliare uno strato alla volta se avete tagliato il vostro tessuto vi consiglio di rifinire la parte finale per far sì che questa non si sfilacci ci sono vari modi con i quali potete rifinire il vostro tessuto io ve ne faccio vedere due che sono tra i più comuni una taglia e cuci per fare questo punto dovete avere la macchina che appunto si chiama taglia e cuci che quindi ha una lama e con due aghi rifinisce tutta la parte tagliata se invece avete una semplice casalinga basterà fare uno zigzag una volta tagliato il capo siamo pronti a riportare la misura dal dritto al rovescio solitamente per fare un lavoro molto preciso si fanno dei punti lenti con il filo da imbastire se non avete idea di cosa siano magari un giorno ve lo spiegherò ma oggi volevo farvi vedere un metodo molto rapido per fare l'orlo quindi useremo gli spilli infiliamo gli spilli lungo tutto il perimetro della linea che abbiamo disegnato in modo che passino al rovescio una volta tracciato il perimetro giriamo il capo dal dritto al rovescio avrete dei nuovi segni con gli spilli da ripassare con il gesso se non avete il gesso infilate i vostri spilli al rovescio così che potrete togliere poi quelli che avete messo al dritto segniamo la nostra misura lungo tutto il perimetro possiamo ora togliere gli spilli che avevamo precedentemente messo per controllare se il vostro orlo è dritto vi consiglio di misurare nuovamente al rovescio quanti centimetri ci sono tra la fine dell'orlo e la linea che avete tracciato nel mio caso continuano a essere 4 controllo che la riga sia dritta e faccio un altro leggero segno avrete quindi riportato la misura del vostro orlo anche al rovescio ora facciamo una piega lungo la linea che abbiamo tracciato e iniziamo a fermarla con gli spilli per fare un orlo davvero sartoriale anche questa operazione dovrebbe essere effettuata con l'imbastire ma come vi dicevo magari più avanti vi spiegherò anche questo metodo proseguite mettendo spilli lungo tutto il perimetro controllate che il vostro orlo sia dritto e ora infilate gli spilli in modo perpendicolare rispetto a quelli che avete appena messo se pensate di non avere un occhio abbastanza allenato per mettere gli spilli prendete semplicemente il centimetro il righello e misurate la loro distanza dalla fine dell'orlo quindi dalla fine dell'orlo misurate un centimetro mettete gli spilli lungo tutto il perimetro dell'orlo più spilli mettete più il vostro orlo resterà fermo e quindi facile da cucire come tante cose in sartoria il tempo che si impiega per la preparazione non è mai tempo perso perché faciliterà quello che faremo successivamente ma va quando il vostro orlo risulterà fermo togliete i primi spilli che avete messo vi consiglio prima di iniziare la vera e propria fase di cucitura di riprovare il vostro capo questo per essere certi che l'orlo sia della lunghezza desiderata una volta che avrete messo gli spilli in questo modo faremo un risvolto della parte finale dell'orlo e lo punteremo con gli spilli questo farà sì che il nostro orlo risulterà invisibile sia all'interno che all'esterno del capo prima di iniziare a cucire vi consiglio di togliere gli spilli che avete messo nella seconda fase della nostra operazione quindi quelli che si trovano ingabbiati dalla piega che abbiamo fatto questo per evitare di farvi male dato che non li vedete rischiate di pungervi quando cucite quindi facendoli uscire in questa maniera li togliete prendete la parte inferiore dello spillo la spingete e lo fate uscire fuori siamo pronti per iniziare infilate l'ago con un filo singolo e fate un solo nodino alla fine per evitare che il lavoro faccia difetto tagliate il filo in eccesso dopo il nodo vi consiglio di fare il primo punto all'altezza di una cucitura già esistente facciamo il primo punto una volta fatto il primo punto cercheremo di unire la parte della piega che abbiamo appena creato con il vero e proprio dritto del nostro capo iniziamo infilando l'ago e cercando di prendere solo due fili dalla nostra piega dico due fili ma potete prenderne anche di più ovviamente meno fili prendete meno l'orlo si vedrà anche a rovescio ma non è così importante dato che appunto si tratta del rovescio ed è quindi la parte che rimarrà dentro e che vedrete solo voi una volta infilato l'ago nei nostri primi due fili cerchiamo di prendere un solo filo del tessuto del dritto in questo caso è importante cercare di prendere un solo filo perché si tratta appunto del dritto quindi se prendete più di un filo l'orlo tira o comunque si vede tiriamo è importante più che mai non tirare perché tirando rischiate di rompere il singolo filo che avete preso e quindi di spezzare l'orlo che avete creato e la fibra del tessuto proseguiamo lungo l'orlo infilando il nostro ago nuovamente nella parte superiore cerchiamo di prendere quindi due fili e ci spostiamo diagonalmente verso il basso prendendo il filo del dritto come vedete si stanno formando dei triangoli isosceli molto molto piatti continuiamo così lungo tutto il perimetro del pantalone fino a che non avremmo finito io sto facendo dei punti molto piccoli ma la dimensione del vostro triangolo varia in base al tessuto quindi potete scegliere di fare un punto anche più lungo quello che è importante è che i vostri punti siano più uniformi possibili e quindi seguano sempre la stessa distanza in modo tale da distribuire meglio il peso dell'orlo nel caso in cui vogliate fare un punto più lungo basterà prendere i due fili del sopra e il filo del sotto in due momenti separati quindi infilando l'ago prima sopra e in un secondo momento sotto mentre invece come avete visto per punti piccoli è consigliabile fare la stessa operazione infilando l'ago una sola volta e senza tirare mi raccomando state attenti a non tirare i vostri punti questo perché più tirerete più l'orlo farà difetto e più come vi dicevo già in precedenza rischiate di rompere i fili che state prendendo con molta delicatezza mi auguro come avrete notato io sto cucendo con un filo abbastanza lungo questo perché non mi piace fare giunture e quindi preferisco avere un filo più lungo e leggermente più difficile da lavorare piuttosto che fare dei nodi all'interno dell'orlo quando sarete arrivati nuovamente alla cucitura dalla quale sarete partiti fate due punti una volta fatto il secondo punto infilate l'ago nel cappio che si crea fate un nodo fate scorrere il nodo come vi ho fatto vedere sul video dei rammendi o semplicemente fatelo scorrere come vi pare tagliate il filo e togliete gli spilli ora rigirate la parte che avevate precedentemente piegato controllate il vostro orlo al dritto se siete soddisfatti del risultato procedete stirandolo altrimenti semplicemente ricominciate mamma come vedete il mio orlo è invisibile sia dal dritto che dal rovescio e questo anche se ho usato un filo bianco proprio perché sono riuscita a prendere un solo filo nel tessuto del dritto e due piccoli fili nel tessuto del rovescio a questo punto potete provare il vostro capo e vedere se l'orlo che avete fatto vi soddisfa io spero vivamente di sì come vi dicevo questo è un metodo valido ma rapido per farlo magari più avanti vi spiegherò anche come farlo in maniera sartoriale e quindi molto molto più precisa usando il filo da imbastire per il momento è tutto mi raccomando non esitate a scrivermi per qualunque dubbio o curiosità ci vediamo al prossimo tutorial grazie a tutti grazie a tutti